Ci siamo? Chimienti, Valente, Bruno, Rondini, Murer, Toninelli, Giuliani. Sì, altri che non riescono? Onorevole Colonnese, la votazione è chiusa. La Camera approva, pongo in votazione l'articolo 9, dichiaro aperta la votazione. La Camera approva, pongo in votazione l'articolo 9, dichiaro aperta la votazione. La Camera approva, siamo al 10, pongo in votazione l'articolo 10, dichiaro aperta la votazione è chiusa. La Camera approva, pongo in votazione l'articolo 10, dichiaro aperta la votazione è chiusa. Colonnese, Latronico, Secco. Batelli, dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva, relatore. 11,50, Russo. 11,50, Russo, parere contrario. Onorevole Russo, prego. No, anche da parte del Governo, prego.